Sarà il riconoscimento del debito fuori bilancio del Comune l'unico argomento in discussione nei prossimi consigli comunali del 13, 20 e 27 settembre, argomento divenuto di estrema urgenza a seguito di una recente sentenza civile della Corte d'Appello di Caltanissetta. Le tre sedute del 13, 20 e 27 settembre sono convocate tutte per le 18 e 30. Nell'agenda dei lavori del civico consesso erano indicati altri argomenti, ma essendo stati ritenuti non della stessa urgenza del riconoscimento del debito fuori bilancio, sono stati per il momento revocati dalle prossime discussioni. Si trattava dell'approvazione dei verbali delle precedenti sedute del Consiglio Comunale, per proseguire con la mozione sulla proposta di istituzione dell'interprete della lingua dei segni per garantire anche ai sordomuti di seguire le sedute consigliari. Altro argomento in agenda era la proposta di intitolare l'aula universitaria del Consorzio Universitario a Giulio Reggeni, lo studente italiano rapito a Il Cairo in Egitto nel 2016 e ritrovato morto nei pressi di una prigione dei servizi segreti egiziani con segni di tortura sul corpo. C'era poi la mozione sulla lotta alla droga e il conferimento della cittadinanza onoraria al Maggiore Gerardo Severino.